Allora questo qui Allora ragazzi ci vediamo Tra circa due ore in live Per continuare il DLC di Nio E semplicemente Sì sono sul mostrante Per ripenderci un po' la mano prima del 5 dicembre E sto facendo anche un po' Mi sto creando un po' di build adatte per l'arco Adesso che ho il gioiello finalmente Ci vediamo in live Spero di vervi lì Bye bye